Accidenti quando mio padre lo sapeva non se l'ha fatto con te Sai cosa ha detto quel dizio lì? Con voce adulta, se lo sa mio padre non so che cosa mi dirà No! No! Era il figlio di qualcuno, no! Quando lo sapeva mio padre Non lo sapeva proprio, uomo Non lo sapeva proprio adesso Voi, ma vi siete mai ritrovati in quella situazione in cui non avete il nitro e volete utilizzare un emoji con la gif? Sono io No! No! E' una cosa che non è mai capitato a me, ma vabbè No, io parlo Cosa ho fatto? Allora Per far lavorare così tanto ho fatto qualcosa di grave Molto grave Allora Grazie, ma Cosa hai fatto, Carbo? Ah, gli ho dato il nitro da 5 euro Ahahahah 5 euro? Cazzo bene, fredi 5 euro A te non te ne frega matti Stai tanto al finale ci sono io che mi sparo Perché? Ma capire dov'è il finale, perché non si vede niente Ma METTE sono un figlio di putt... No, dai, dai Dai METTE! Ro' fuori arrivato, l'ho visto! Ti nessuno, ti nessuno ha fatto più No, METTE! M'azza, basta No, no La matti La matti Sti, ti ho sbarato che non ti potevo vedere, ti ho sperato a cazzo Io l'ho cliccato il tasto Grazie Senti salvo! Senti salvo! Lui era lì, adesso ha fatto topili I mio due Guarda Ma 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 Vorrei for saltare Come faccio a for saltare la radinamide? Così No aspetta così Ah devi sparare Così Ma fidati carbo Io per scherzare vi ho detto Io donerò 100 euro indice e raggiungi 7000 iscritti DEF! DEF! In un mese DEF! DEF! In un mese Gli ho raggiunti in un mese Gli ho raggiunti in un mese Gli ho raggiunti in un mese RAGA PORCO Non fate provare che mia madre è dopo su in casa Un mese festivo Gli ho raggiunti in un mese Gli ho raggiunti in un mese Gli ho raggiunti in un mese Ma non riesci a capire Hai la stessa Emozione Sensazione O come volete chiamarla voi Di quando guardi un kaleidoscopio Non riesci a capire se l'immagine è a muoversi o è altro Se è qualcosa di più Strano Nascosto Forse sono molto criptico ora Ma lo faccio per un motivo Che voglio spiegarvi Ma non adesso Non mentre questa Cosa Sta ascoltando Saprete voi quando è l'ora di parlare Vi voglio però dare un consiglio D'ora in poi D'ora in poi Non state da soli Aiutatevi vicenda Per aiutare Me